Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com Se anche voi come me avete avuto sempre la necessità di dover trovare una impostazione rapida sul vostro iPhone ma vi perdevate tra i menu dell'applicazione impostazioni ebbene sappiate che da oggi esiste una soluzione molto più sbrigativa, gratuita seppur disponibile solo per iPhone jailbroken Stiamo parlando di Search Settings e un nuovo tweak gratuito appunto rilasciato da Ryan Petrich all'interno della sua repository privata su Cydia quindi se non l'avete ancora aggiunta vi metto così il link alla repository di Ryan Petrich così la potete aggiungere in Cydia come state vedendo insomma questo tweak ci consente di fare ricerche all'interno dell'app impostazioni Si tratta quindi di un tweak molto molto comodo che ci permette di arrivare subito all'obiettivo senza stare a cercare il menu in cui è nascosta quella funzione il che insomma ci velocizza davvero tanto e consente soprattutto di evitare di starsi a ricordare in quale menu è nascosta una determinata funzione L'unica limitazione di questo tweak se vogliamo è il fatto di poter cercare solo nel momento in cui siamo nella pagina in cui è presente anche l'impostazione che vogliamo modificare quindi se cerchiamo ad esempio le impostazioni di Facebook basterà aprire impostazioni e scrivere Facebook e potremo subito modificarne i parametri mentre se vogliamo ad esempio modificare le impostazioni di voiceover dovremo comunque aprire impostazioni generali accessibilità e poi di lì potremo fare la ricerca per voiceover e quindi procedere con la visualizzazione dei risultati e quindi modificare le impostazioni purtroppo quindi questa è l'unica limitazione di search settings anche se comunque è molto relativa perché il tweak si rivela già molto molto comodo così com'è inutile dire che è una caratteristica ripresa da alcuni dispositivi Android ad esempio l'ultimo che mi viene in mente è proprio il Galaxy S5 dato che è stato l'ultimo che ho provato ed è una cosa molto molto comoda mi sto ripetendo però è davvero così ragazzi se avete provato una soluzione di questo tipo su Android sarete sicuramente felici di poterlo utilizzare anche su iOS perché le impostazioni ormai sugli smartphone sono davvero tante e quindi non è sempre facile ricordarsi il menu in cui è una determinata voce per fare la nostra modifica chiaramente su iOS è tutto molto più lineare rispetto ad Android specialmente per quanto riguarda il Galaxy S5 perché con le impostazioni quest'anno hanno fatto un po' di casini vari le hanno rese ancora più complesse oltre che più numerose però insomma ragazzi questo è search settings grazie a Ryan Petri c'è una funzione in più gratuita per i nostri iPhone jailbroken se volete scaricarlo vi ricordo di aggiungere la sua repository privata su Cydia e niente quindi questo è il video di oggi vi ringrazio per averlo guardato fino alla fine noi ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com se ti è piaciuto questo video clicca mi piace condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale se non l'hai già fatto queste tre cose ci aiutano a crescere e a proporre sempre nuovi video sull'iPhone di Apple come questo grazie 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 grazie